Fischia parte, sembra il treno della morte. Siamo il treno, fischia parte, sembra il treno della morte. Kazan, 19 dicembre 1916, mia memoria 5 marzo 1917, mia memoria. Soldati e civili trentini, uomini e donne, raccontano nei diari la loro esperienza di guerra. Mia memoria vuole ridare voce a questi dimenticati. Povero Luigi se ne stava con gli occhi chiusi, la testa appoggiata alla terra, la faccia coperta di sangue. Mi sognai che mi trovavo in Cambone e che colante ero vicino alla mia moglie e ai miei figli. Mi misi alla fuga come un disperato, aveva l'arma in mano e lo zanno sulle spalle che con il governo mi batteva la schiena. Se non muere questa volta, non muere più. Sì, sì, sì.